Chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e istituire la didattica a distanza fino a Natale è la proposta del parlamentare nazionale della Lega Nino Minardo e del capogruppo a Lars Antonio Catalfamo al governo regionale, nello specifico al presidente Nello Musumeci. La situazione epidemiologica attuale in Sicilia, commenta Minardo, ha fatto emergere notevoli criticità anche nelle scuole e sarebbe opportuno valutare la possibilità di chiuderle fino a Natale con l'istituzione della didattica a distanza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Sono condivisibili le richieste in tal senso provenienti da diversi sindaci siciliani, considerato che quanto deciso a settembre per la riapertura delle scuole purtroppo è stato rivoluzionato dalla stessa emergenza sanitaria caratterizzata da questa seconda ondata. Il drive-in degli ultimi weekend in tante città siciliane hanno dimostrato come la stragrande maggioranza dei positivi e soprattutto degli asintomatici sia tra i giovani studenti che inconsapevolmente contagiano i loro compagni e le loro famiglie, le insegnanti e il personale scolastico. Ciò comporta la nascita di focolai, lezioni a singhiozzo con continue chiusure temporanee degli istituti scolastici per la necessaria sanificazione, diverse classi in quarantena e preoccupazione nelle famiglie che molto spesso preferiscono non mandare i loro figli a scuola mettendo in gravi difficoltà i dirigenti scolastici nella gestione generale dell'attività didattica. Non hanno più senso quindi, continua il parlamentare della Lega, le chiusure a singhiozzo visto l'avvicinarsi delle feste di fine anno. Ne ha senso scaricare la responsabilità sui sindaci costretti a chiudere interi istituti, meglio una soluzione drastica ma sicuramente più efficace. Sarebbe opportuno, conclude Minardo, che il governo regionale intervenisse in maniera convinta mettendo in sicurezza gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale scolastico.